Il terremoto ci ha fatto più danni che la seconda guerra mondiale. Parola di Franco Cereggioli, sindaco di Sarnano, un comune di 3.000 persone nelle Marche, colpito dal terremoto del centro Italia dell'anno scorso. Ora l'associazione delle compagnie assicuratrici, l'ANIA, ha donato 2 milioni di euro al commissario straordinario del governo per la ricostruzione, Vasco Errani, fondi che saranno impiegati per ricostruire la scuola elementare Giacomo Leopardi. Questa mattina, nella sede dell'ANIA, lo stesso Errani ha siglato l'accordo. La presidente dell'Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici, Maria Bianca Farina. Abbiamo deciso immediatamente, subito dopo il terremoto, avevamo anche noi desiderio di contribuire alla ricostruzione di territori e di dare speranza a famiglie che in quel momento erano davvero disperate e abbiamo pensato di partire dalla scuola e quindi di contribuire direttamente alla ricostruzione di una scuola perché ci sembrava importante partire dai ragazzi che più di tutti vedevano il loro futuro totalmente compromesso nei luoghi dove erano nati e che erano il loro habitat. l'ANIA e le compagnie di assicurazione non hanno avuto momento di esitazione e a questa decisione poi è seguita l'attuazione, abbiamo scelto la zona, il comune, il progetto ed eccoci qui ormai all'inizio dei lavori. Il nuovo edificio scolastico ospiterà 150 bambini con aule moderne e laboratori polivalenti. Verrà ultimato nel corso dell'anno scolastico 2017-2018 e rappresenterà un polo attrattivo per l'intera popolazione di Sarnano con un'area per le attività extrascolastiche alla quale potranno accedere tutti i cittadini. Franco Cereggioli, sindaco di Sarnano. Questo terremoto ci ha danneggiato in maniera importante sia dal punto di vista dei danni al patrimonio edilizio e urbanistico, abbiamo circa 1200 abitazioni inagibili, tre scuole, il museo, il teatro, le terme, tante realtà economiche e imprenditoriali danneggiate. Quindi è un momento difficile, un momento delicato che stiamo affrontando con molta determinazione, con molto impegno. Ovviamente un'attenzione particolare l'abbiamo messa fin dall'inizio insieme al commissario Errani alla ricostruzione dell'edilizia scolastica, abbiamo tre scuole da ricostruire. Questo passaggio di oggi è un passaggio veramente importante e fondamentale perché c'è una speranza, soprattutto per i nostri ragazzi, di poter avere a breve, nel giro di qualche mese, una scuola nuova, sicura, per poter affrontare con serenità i lavori dell'anno scolastico.